Vedi Ministro, voi fino a ieri avete avuto un quadro dell'economia globale molto positivo. Tutti i fattori che determinano e influenzano l'economia globale dovevano essere un assist alla vostra politica economica. Il risultato di oggi è che oltre a non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che voi stessi avete predefinito, oggi si mette ancora una volta in discussione il raggiungimento degli obiettivi di quest'anno rispetto alla crescita. Rispetto alla crescita ma soprattutto rispetto a un valore reale dell'economia di questo Paese che permane assolutamente stagnante, Ministro. Basterebbe che faceste un giro nei centri urbani per vedere le serande abbassate nei negozi o nei tanti cappannoni sfitti che ci sono in tutte le aree artigianali dei nostri territori. Ma soprattutto parlare con quei giovani che sono ancora oggi assolutamente privi di futuro nonostante le misure che voi avete messo in essere, misure, e questa è la verità, caro Ministro, che sono un limite alla crescita di questo Paese, come un limite alla crescita di questo Paese la ripartenza dei consumi è questo governo.